La Roma dell'aglio, la sapienza culinaria dei grandi chef, le tradizioni di un territorio ricco di testimonianze storiche e una splendida villa nobiliare a fare da scenario. Erano questi gli ingredienti della serata organizzata domenica 5 luglio nel parco della villa Massari Mazzoni di Voghenza dal consorzio dell'aglio di Voghiera, una delle perle dell'agroalimentare ferrarese che si dà ormai obiettivi internazionali. E' il modo per celebrare il grande lavoro che i produttori stanno facendo. L'aglio di Voghiera ha cercato di posizionarsi come un prodotto di grande cucina, quindi l'abbiamo festeggiata chiamando Grandi Cuochi e questo è un progetto che serve all'internazionalizzazione del prodotto. Abbiamo contatti con buyer americani, svizzeri e anche tedeschi ai quali manderemo anche la ripresa di questo lavoro che è stato fatto anche appunto per farne vedere l'utilizzo. I cantori della scuola Adriano Banchieri di Imola, i ragazzi dell'istituto alberghiero Vergani di Ferrara, le istituzioni e il volontariato di Voghiera e naturalmente gli chef dell'associazione Chef2Chef. Maria Grazia Soncini della Capanna di Eraclio, Franca Vicentini del Pirata di Voghiera, Adalberto Migliari della Chiocciola di Portomaggiore che ha preparato una spuma di aglio utilizzata per condire uno splendido risotto. Questa qui nasce da tanti anni fa quando andai alle prime sagre dell'aglio, c'erano qui a Voghiera, quella d'agosto e mangiai l'aglio intero cotto sulla braccia e quindi veniva tagliato in due e spalmato su un pezzo di pane e per me fu l'apoteosi del gusto, del territorio, proprio le radici di casa e quindi avevo creato questa spuma in maniera più delicata, cioè senza ritorno dell'aglio utilizzando la tecnica classica delle tre sbianchiture in acqua senza sale poi frullandola, dopodiché gli spicchi d'aglio vanno cotti nel barbecue per dargli una nota di griglia, una nota di fumo e per finire la cottura, per renderle una purea dopodiché viene frullata con un latte e panna e messa nel montapanna quindi diventa questa cosa soffice ma molto golosa e non aggressiva, più moderna in poche parole. Grande qualità, un profumo e un aroma inimitabile consolidato da secoli di lavoro agricolo ma anche un notevole valore economico per il territorio di Voghiera e della sua provincia sono questi i caratteri distintivi dell'aglio di Voghiera. Nel nostro territorio il volume d'affari è di 4 milioni di euro c'è però da considerare appunto l'indotto i soci sono 44, c'è chi l'aglio lo cava, chi lo pulisce, chi poi lo confeziona quindi noi valutiamo circa un centinaio di posti di lavoro che per un territorio come Voghiera è sicuramente di pregio ma c'è anche tutto un indotto che è legato alla conoscenza di questo prodotto quindi abbiamo notato una maggiore frequenza per esempio nei nostri agriturismi nei nostri bed and breakfast dovuti anche al fatto che viene conosciuta la località quindi è un lavoro di squadra che si concretizza in questo distretto agriculturale cioè nel promuovere prodotto e territorio. L'incontro di oggi, questa iniziativa di oggi che è molto bella in sé evidentemente non è però un'iniziativa estemporanea, fa parte di un progetto di valorizzazione dell'aglio. Sì, come dicevo prima il distretto agriculturale è questa promozione che vogliamo dare al nostro territorio dicendo che il nostro territorio è un insieme di elementi preziosi che vivono insieme prodotti agricoli di alta qualità, l'aglio in primis ma non solo, emergenze monumentali di altissimo valore un territorio che si presta ad essere percorsi in bicicletta e che contiene anche percorsi cicloturistici ormai assodati tutto questo fa di noi diciamo un distretto l'iniziativa di oggi è molto significativa in questo senso perché racchiude tutti questi elementi però è come l'apice di un lavoro che si fa costantemente anche nelle piccole iniziative grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti